Non ve lo nego, non ve lo nego, mi era mancata, mi era mancata da matti questa sensazione. Cazzarola se mi era mancata la sensazione di vincere uno scontro diretto contro una squadra che ci sta sopra in classifica, contro una cosiddetta grande del campionato. Quanto mi è mancata questa sensazione. Troppo. Un intero anno senza vincere scontri diretti, un'intera prima parte del secondo anno senza vincere scontri diretti. E per fortuna questa volta ce l'abbiamo fatta. Partita strana, molto strana, che cercheremo di analizzare insieme nel migliore dei modi a caldo e vi lascio comunque anche la possibilità di scaricare numero 10 dal primo link che trovate qui sotto in descrizione perché sul numero 10 poi usciranno degli articoli, delle interviste, dei post partita anche dedicati. Io cercherò di fare i miei sul canale YouTube e invece il mio post partita di Hellas Verona Juventus uscirà invece in esclusiva. Sul numero 10. La cosa più bella è portarsi a casa questa sensazione. Questa sensazione ragazzi... Io oggi ce l'avevo questo sentore di... Non dico di vincerla, però anche stamattina, nel video che avevo portato stamattina, nel post che avevo fatto su Instagram oggi, dicevo, non bisogna più accontentarsi del pari. Io dicevo anche nel pre-partita su Twitch, oggi non mi sarei accontentato del pari. Perché è ora di invertire sta tendenza. È ora di ragionare, di tornare a ragionare come una squadra che questi scontri diretti, queste partite le deve vincere. Gli deve vincere. Dicevo, partita strana. Partita strana perché primo tempo ragazzi non mi è piaciuto minimamente. Nel primo tempo siamo stati quasi nulli, praticamente nulli. Potevo mettervi su il post partita di Inter-Juve dell'anno scorso, all'andata in campionato, o della Supercoppa italiana sempre giocata a San Siro. E potevo riassumerevela con Juventus che si preoccupa di non prendere il gol più che di farlo. Perché bene o male questo era accaduto nella prima frazione con l'Inter che aveva trovato tre occasioni da gol abbastanza clamorose. Una con Lautaro Martinez di sinistro, una con Dzeko di testa e una con Dumfries dopo un assist di Barella dalla destra. Che insomma erano tre occasioni abbastanza importanti, più un paio di tiri, uno con Acerbi e uno, non mi ricordo, con Di Marco, che avevano provato a farci male e noi invece nel primo tempo eravamo stati zitti, muti, in silenzio a semplicemente osservare, pregare, soffiare su questi palloni che potevano entrare come no, senza mai preoccuparci di fare effettivamente male all'Inter. Secondo tempo invece è iniziato in una maniera differente perché i primi 20 secondi del secondo tempo ti dava la sensazione di una Juventus che voleva completamente cambiare il copione della gara vista nella prima parte e infatti possesso palla della Juve che in 20 secondi arriva a concludere con un colpo di testa dal limite dell'area, non un'azione pericolosa però ti ha dato proprio l'idea di questa volontà di cambiare l'inerzia di un primo tempo bruttissimo. perché continuando a fare la partita sulla falsa riga del primo tempo non si conquistano risultati, non si portano a casa vittorie, ma non si fanno nemmeno gol probabilmente e dobbiamo distaccarci da quella Juve paurosa, da quella Juve col freno a mano tirato perché siamo una squadra che quando gioca in verticale, quando gioca negli spazi, in campo aperto, abbiamo la possibilità di far male, assolutamente. Poi nel secondo tempo molla l'Inter, nel primo tempo abbastanza bene l'Inter che ci provava e abbastanza male la Juve che non ci provava. Nel secondo tempo si inverte il tutto e vengono fuori anche se vogliamo le giocate dei singoli. La Juventus rischia di dilagare poi, non ha avuto chissà quante occasioni da gol la Juve nel totale della partita, ma le ha avute tutte qualitativamente elevate. Cioè, il gol dell'1-0 di Rabiot, a parte che mi sembra una disattenzione di Barella che fa sgusciare via Kostic, lì magari lo butti giù e prendi il cartellino giallo, invece che essere costretto a rincorrere, un contropiede che Kostic veramente orchestra la perfezione, ma ancora più perfetto Rabiot, che col piede debole fa quel gol lì ragazzi, che è incredibile, ha fatto un gol allucinante, un gol della madonna, veramente Rabiot ha fatto una roba, tasso di difficoltà clamoroso, tasso di difficoltà elevatissimo, veramente livelli allucinanti, non me lo sarei mai aspettato, complicato, il gol di Rabiot è complicatissimo. E poi di Nersa la partita cambia totalmente, con l'Inter forse nervosa anche magari del fatto di non aver raccolto quello che aveva costruito con la Juve che alla prima occasione va in vantaggio, calcio è uno sport stranissimo, e andiamo addirittura a fare il 2-0 con Danilo sul calcio d'angolo, io in diretta ero impazzito perché non avevo visto la mano di Danilo, non mi sembrava assolutamente mano, poi nel replay è stato chiarito che effettivamente Danilo tocca la palla con la mano, secondo me è giusto annullare il gol nonostante il braccio di Danilo fosse sotto al braccio di De Vrij, ma mi sembrano cose che all'interno dell'area di rigore avvengono abbastanza spesso, sono delle marcature, non mi sento nemmeno di dire con le cattive, all'interno dell'area di rigore forse sono marcature con le buone, quindi mi sento di dire che il gol è stato giustamente annullato e non c'è stato scandalo che invece mi sembrava, devo dire la verità, indiretta perché non si era vista con la camera il tocco di mano di Danilo, mi sembrava semplicemente una deviazione stramba di polpaccio sinistro che ci portava sul 2-0, fino a quel momento probabilmente immeritato, ma poi l'Inter costretta anche ad alzarsi probabilmente con i cambi a togliere quell'equilibrio che da sempre regna con il 3-5-2 di Simone Inzaghi, abbiamo anche la possibilità con una gran palla di fagioli di andare a concludere a rete con Kostic che prova un tiro esattamente come quello che ho fatto la youtuber league contro l'Inter, proprio sempre Juve Inter, che però si infrange sul palo purtroppo e quindi non possiamo esultare, dopo il gol annullato a Danilo l'urlo ci rimane ancora una volta in gola, entra addirittura Chiesa, esce Milik, scelta strana ma che alla fine si è rivelata abbastanza corretta, devo dire la verità perché alla fine comunque Chiesa ha retto bene anche da punta e quando è uscito pure anche Miretti ed è entrato di Maria la Juventus è riuscita ancora una volta in ripartenza perché noi siamo questi, se è una squadra verticale e un primo tempo orizzontale non può andarmi giù quando se è una squadra che con due passaggi va in porta e ha qualità negli ultimi metri e infatti quando io sento parlare di Juve che non ha la rosa, non ha i mezzi, i giocatori scarsi, ragazzi noi abbiamo tecnicamente dei giocatori fortissimi, se non gli dà la possibilità poi di esprimersi come dovrebbero quello è un altro discorso ma io non ho dubbi sulla bontà della rosa di questa Juventus anche perché stanno continuando a uscire i giocatori interessanti, Niccolò Fagioli trova il suo secondo gol con la maglia della Juve praticamente ha giocato due partite e un pelo, perché è un pelo quella con Lecce e ha fatto due gol e oggi aveva sfiorato l'assist con Kostic e questa volta è Kostic che ancora una volta fornisce il secondo asset della serata proprio ancora lui, sempre lui e fa un gran gol, vero c'è la deviazione di Gossens, mi pare di Gossens però Fagioli stop e tiro, con il cross che passa corretto, con la palla di Di Maria perfetta, con Chiesa che porta via l'uomo e questo siamo ragazzi, poi Chiesa e Di Maria insieme sono un attacco particolare, sono un attacco strano ma un attacco che probabilmente ha della qualità, è ovvio che usati come arma a partita in corso poi sono un lusso che credo veramente in pochi possano permettersi e quando poi tornerà pure Vlaovic avremo la possibilità di divertirci e capire come effettivamente riusciremo a metterceli davanti però ragazzi stasera bisogna essere felici, stasera bisogna essere felici perché il primo tempo, ripeto, non mi è piaciuto il secondo tempo non mi ha convinto totalmente, però c'è stata una grinta che mi ha veramente conquistato la grinta del secondo tempo e soprattutto la voglia di cercare di andare avanti sono un atteggiamento che vorrei sempre vedere dalla Juventus e che mi fa incazzare vedere solamente a spot, a targhe alterne è una roba che proprio mi dà fastidio perché sono qua che penso ma se l'avessimo sempre giocate con questa grinta, questa voglia, questo impatto, tutte le altre partite penso alla partita con la Samp, penso alla partita con il Monza, ma anche banalmente quella con la Salernitana dove si è visto soltanto nel secondo tempo penso anche se vogliamo a quella col Milan dove giochiamo 20 minuti quella con la Fiorentina dove giochiamo 15 minuti dove potremmo essere oggi? non parlo degli assenti perché gli infortuni ci stanno, succede, capita ma il modo di approcciare le partite non capita quella è una roba tua è una roba che è una presa di posizione, è una lettura corretta di quella che è la rosa della Juve e troppe volte, siccome fino a questo punto della stagione abbiamo castrato le nostre qualità l'Inter è una squadra che non è perfetta che era malata ma che comunque nell'ultimo mese aveva fatto bene, benissimo è una squadra che ha passato un giro nei Champions eliminando il Barcellona molto bene per quelle che potevano essere le aspettative è una squadra che, lo diceva prima, Ambrosini ad Azone nella carica della partita dicevo, non mi interessa questo esito ma pensandoci, era 24 gare di fila che l'Inter faceva almeno un gol oggi è clean sheet e vive in un prende gol da San Siro gol di Brahim Diaz una disfatta clamorosa poi ci sono state 4 vittorie di fila il Torino, l'Empoli, il Lecce e l'Inter non mi ha sempre conquistato non mi ha sempre convinto però, rispetto alle partite precedenti l'atteggiamento, beh, quella è una cosa che dobbiamo assolutamente sottolineare manca qualcos'altro, certo perché sennò non saremmo una squadra ancora ballerina, altalenante non saremmo una squadra un po' così però in Serie A stiamo cercando di riadrezzarla e questa sicuramente è una casellina importantissima ed è fantastico vi giuro, non so dirvi il tempo che non accadeva questa cosa la sensazione di aver vinto questa partita è bellissima ma c'ho già la testa a Verona c'ho già la testa a Verona perché voglio prendere altri 3 punti e poi c'è la Lazio dopo che oggi ha vinto il derby con la Roma quindi le ultime due gli ultimi due sforzi dell'anno poi Tana libera tutti, andate al Mondiale ma gli ultimi due sforzi dell'anno gli ultimi 6 punti per farci guardare la classifica durante un Mondiale senza Italia in una maniera differente perché sennò veramente diventa difficile per tutti stasera vado a letto contento vado a letto felicissimo vado a letto felice per Fagioli vado a letto felice per Chiesa che è tornato vado a letto felice per la Juve vado a letto felice per noi tifosi vado a letto felice per tutti per tutti per tutti cazzarola ma c'è un ma guai a sentirsi arrivati guai a sentirsi guariti guai a sentirsi risolti perché lo torno a dire l'atteggiamento la voglia la grinta questo è cambiato si mettono in campo queste cose più di prima ma manca ancora qualcosa manca ancora quel qualcosa in più quella continuità di rendimento di prestazione che in questo momento non abbiamo e non dobbiamo fare l'errore di confermare la completa guarigione della Juventus no no però stasera bisogna essere felici perché da troppo tempo non si festeggiava uno scontro riletto vinto e anche questo nella gioia nella felicità deve essere una piccola spia un campanello d'allarme perché essere così contenti per uno scontro riletto vinto perché non ne vincevi da troppo è per forza di cose sinonimo di mediocrità ma noi per oltre un anno e mezzo siamo stati mediocre non siamo stati e quindi questo deve essere il primo passettino di ritorno alla normalità perché una felicità così grande non la vivremo più per una vittoria singola all'interno del campionato di Serie A di scontro diretto a meno che non si vinca lo scoletto l'ultima giornata per dire no perché proprio perché era da troppo tempo che non accadeva una roba del genere e quindi spero che questo possa essere il modo di allontanare questa mediocrità che ci ha accompagnato in questo anno e rotti mesi da oggi questo deve essere il binario da seguire della normalità perché la Juve deve essere abituata a vivere queste serate e non voglio più essere una squadra che deve festeggiare per essere tornato alla vittoria con l'Inter dopo non lo so un anno e cinque mesi e sei mesi non ho idea di quanti siano gran partita di Bremer ma poi ne parleremo nel dettaglio con i post partita vari e domani c'è anche l'estrazione per la nostra avversaria d'Europa League che non è la Champions però questo momento abbiamo e ci siamo meritati soprattutto perché abbiamo fatto un girone terrificante quindi non ci meritavamo la Champions però cerchiamo di meritarci una posizione più alta in Serie A e bisogna seguire questa linea seguirla con la consapevolezza che non è finito il percorso ma anzi è appena iniziato è appena iniziato Grazie a tutti.